Caro sindaco, c'è posta per te. Promessa mantenuta, abbiamo portato ad Achille Variati la lettera con cui un nostro telespettatore lamenta di essere una delle tante troppe vittime dello spartitraffico di strada postumia. Venuto a conoscenza di molti incidenti accaduti ad altri automobilisti nello stesso identico punto, allega anche il conto dell'autofficina dove ha portato a riparare la sua auto finita nello spigolo del cordolo come si vede nella fotografia e il comune lo ha dovuto rimborsare. Tanto che l'autore della lettera che consegniamo al sindaco conclude con una domanda rivolta proprio ad Achille Variati. Cosa aspettiamo a rimediare a questo scempio? Certo ho visto e reputo questi dei contributi che i cittadini danno per far sì che le cose vadano al meglio. Niente è sbagliato perché quell'incrocio sarebbe ancora più pericoloso come lo è stato nel passato. Però ciò che è stato fatto, l'esperienza di questi mesi dimostra che non va bene. Allora l'ufficio della mobilità del comune che è stato interessato anche da me, anche grazie a queste e altre segnalazioni che ci sono arrivate, sta ristudiando quel nodo. Certo ci vuole luce anche di sera perché così può diventare un ostacolo. Certo le aiole andrebbero risagomate per fare in modo che i veicoli addirittura non ci vadano sopra provocando incidenti. Insomma ci stanno degli studi precisi che stanno facendo anche in base alle segnalazioni per rendere più sicuro quell'incrocio. Capito? Il sindaco ha preso l'impegno di modificare lo spartitraffico pericoloso. Finalmente! Ovviamente quello che conta sono i tempi stretti. Noi dobbiamo seguire una serie di procedure di legge che non sono semplici. Però mi hanno assicurato che tra maggio, aprile e maggio l'incrocio sarà sistemato. Bene, ce lo segniamo e controlleremo. Dunque per quanto ci riguarda la situazione non finisce qui ma continua.